Se da un lato c'è una grande richiesta di vaccinazioni, tra prime e seconde dosi e booster, dall'altro c'è anche una grande disorganizzazione da parte dell'asola di Salerno per far sì che ciò avvenga in maniera lineare. Certo, gli imprevisti possono sempre capitare, ma a distanza di due anni, da quando il virus è entrato nelle nostre vite, ognuno ha imparato qualcosa. Sarebbe ora che anche il sistema sanitario mettesse in pratica quello che da due anni sta ripetendo a Iosa, distanziamento sociale ed evitare assembramenti. Negli ultimi tempi il caos presso le sedi degli hub vaccinali della provincia di Salerno regna indisturbato. Anche nel Cilento assistiamo a tanti disagi di cittadini che recandosi presso i centri vaccinali devono stare in fila per diverso tempo e spesso è inevitabile che si creino degli assembramenti per l'attesa della propria convocazione. È il caso dell'auditorium comunale della città di Sapri che nel pomeriggio di ieri è stato preso d'assalto dai cittadini in fila per la somministrazione del vaccino anti-covid-19. Tra le tante persone in attesa della terza dose, in open day, ossia senza prenotazione, molti cittadini invece erano stati convocati dall'Asla via mail per la seconda dose, alcuni addirittura per la prima. Non sono mancati momenti di tensione. Necessario l'intervento delle forze dell'ordine della stazione dei carabinieri di Sapri per sedare gli animi, un uomo ha accusato anche un malore e per lui è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. Ad intervenire sulla vicenda è stato anche il primo cittadino Antonio Gentile. Attesa all'elevata richiesta di vaccini a termine di una riunione con la protezione civile, la polizia municipale, il direttore del distretto 71 e del responsabile del centro vaccinazioni, si è convenuto, sottolinea Gentile, per ridurre i tempi di attesa ed assembramenti, che sarà obbligatorio prenotare la propria vaccinazione al numero unico comunale 0973 60 55 43, operativo da domani 30 dicembre, dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12, in modo da assicurare flussi costanti di massimo 300 persone nei giorni ad orario pomeridiano e massimo 500 nei giorni ad orario continuato. Le sedute vaccinali del mese di gennaio dunque sono così calendarizzate 4, 10, 25, 27, 31 dalle 15 alle 18 e il 9 e il 23 gennaio dalle 10 alle 18. Le prenotazioni saranno garantite esclusivamente ai residenti della regione Campania. Per i non residenti in regione Campania è propedeutica la pre-registrazione sulla piattaforma online, conclude il sindaco di Sapri Antonio Gentile.